Lasciamo le notizie di Cronaca. Aumenta il consumo di sigarette tra i più giovani. Dal 9 luglio un nuovo spot del Ministero della Salute. Ce ne parla Carlotta Angeloni. Quanti anni hai? 22. Da quanto tempo fumi? Vediamo, dalla terza media, quindi sono 10 anni. 17. Quante ne fumi? Un pacchetto più o meno al giorno. Sempre più giovani fumano il 22% dei ragazzi fra i 15 e i 21 anni e il 35% inizia prima di 15 anni. Perché fumano i grandi, vuole fare una cosa trasgressiva, vuole fare una cosa diversa e si fuma la sigaretta. Magari pure in bagno, capito? In aumento soprattutto le ragazzine con gravi conseguenze per la salute. Ho dimostrato una maggiore frequenza del tumore al polmone delle donne rispetto agli uomini che hanno superato come tendenza gli uomini negli ultimi 10 anni. Per educarli fin dagli 8 anni a dire di no al fumo, uno spot con Renato Pozzetto. Il fumo uccide, difendetevi, hai capito? Io non fumerò mai, mica sono pazza. Il mio papà quando fuma puzza. Ma tante sono le scuse per iniziare. Cioè non lo posso negare che la curiosità della cosa... Così, all'inizio per gioco, magari per moda, perché lo fanno un po' tutti i tuoi coetanei, gli amici. Che tabacco è? È una sigaretta di tabacco trinciato. Quanto costa? 3,75. Un prezzo che aumenterà per sconsigliare il consumo di queste sigarette fai da te.